E' arrivato il grande giorno, oggi esame di Stato per 14.000 studenti marchigiani. Qui alle mie spalle potete vedere già alcuni ragazzi che hanno sostenuto la prova, siamo andati a sentire come è andata. Pronti partenza via, elaborato in mano e tanta emozione per gli studenti che questa mattina alle 8.30 hanno sostenuto il primo giorno di esame. In tutta Italia ben 540.000 maturandi, di questi 13.946 sono marchigiani e 2.942 della provincia di Pesaro-Urbino. Una prova anche quest'anno riformulata per via dell'emergenza Covid, come lo scorso anno infatti non era previsto lo scritto, ma solo un maxi colloquio orale della durata di un'ora che i candidati devono sostenere partendo dalla discussione di un elaborato presentato a fine maggio. La tesina da cui inizia l'orale è stata assegnata dai consigli di classe sulla base del percorso svolto dallo studente e riguarda le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi. A seguire l'interrogazione su un testo d'italiano trattato durante l'anno, l'analisi di materiali proposti dalla Commissione, siano essi un grafico, una foto, un'opera d'arte, un problema o un verso, e per finire l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti hanno a disposizione fino a 40 punti per poter arrivare al massimo dei 100 a disposizione, gli altri 60 li portano in dote dagli ultimi tre anni di scuola. Si è partiti oggi dunque con un massimo di 5 studenti al giorno, qualcuno di loro intervistato dalle telecamere di Fano TV ha già raccontato cosa è in programma per il futuro, prima un viaggio al caldo per festeggiare dopo mesi di studio e sacrifici, e poi, nella maggior parte dei casi, l'iscrizione all'università. È stato più semplice di quello che mi aspettavo, rispetto a ieri era anche abbastanza teso, però dai, alla fine lì si passa in fretta, quindi dai, è stato più semplice di quello che mi aspettassi. Questa notte hai dormito oppure è notte in bianco? Beh, è notte prima degli esami, è stata abbastanza dura addormentarsi, però piano piano poi il sonno prende sopra il vento, quindi sì, alla fine ho dormito. Tutto concentrato in un'ora in cui si è dovuto cercare di mettere, di far vedere quello che ho imparato in 5 anni, che non è semplice, però alla fine sono contento e penso siano tutti contenti di aver potuto dare un esame quasi normale. Quali progetti per il futuro, che cosa farai? Il prossimo anno penso sicuramente andrò a fare economia a Bologna, in inglese. Benissimo, dai, è andata bene, sono soddisfatto. Quanta preparazione c'è stata dietro, soprattutto quest'anno con la didattica a distanza, immagino non sia stato facile. Quello è vero, sicuramente, anche con il prof che faceva lezioni da casa, di italiano e latino, quindi 7 ore settimanali, molto dure. Tra scuola in presenza, scuola a casa e poi finalmente l'ultimo mese e mezzo tutti in presenza ha aiutato molto. Dove andrai a fare il viaggio di maturità se lo farai? Sì, parto il 28, vado a Mallorca, sto fino al 4. Sei vaccinato, quindi? Ho fatto la prima dose del Pfizer. Progetti per il futuro, che cosa farai? Andrai all'università? Sì, proverò a dare il test a fisioterapia, a Ferrara. Avevo grandi aspettative, ero la primissima di oggi, quindi proprio prima di aprire gli esami di Stato 2021. E quindi l'ansia ha aiutato in parte e soddisfatta, dai, è andata bene. I professori hanno davvero aiutato e sono stati molto clementi. Che cosa farai dopo? Dopo studerò criminologia, quindi nonostante faccio il linguistico, ho scelto il campo delle scienze e a Firenze, quindi sono molto, molto emozionata. Mi hanno messo molto a mio agio, quindi già questo è un primo punto importante da cui partire. E mi hanno chiesto principalmente l'estetismo e volendo andare a fare storia dell'arte nella mia vita è stato proprio, diciamo, preciso per me. Durante l'anno è stato molto difficile a seguire, soprattutto in didattica a distanza. E devo dire che la lettera è stata estratta lunedì e sapere di essere mercoledì è stato frustrante. Quindi in questi ultimi due giorni ho fatto il ripasso totale, per questo ero molto, molto stressata, soprattutto ieri sera. Però una volta arrivata questa mattina ho detto quel che è fatto è fatto e sono andata tranquilla. Infatti è andato tutto per il meglio. Progetti per il futuro che cosa farai? Università sicuramente, storia dell'arte, quindi credo a Bologna. Molto più tranquillo di quello che mi aspettavo, immotivato tutta l'ansia di prima. Mi hanno chiesto, allora, ho portato la probabilità in medicina come elaborato. E poi abbiamo fatto una chiacchierata interdisciplinare con come fu il pro l'Hawai e la situazione geologica dell'Hawai. Programmi per il futuro? Medicina, se si entra ovviamente. C'è anche in piano un viaggetto per l'estate oppure no? Sicuramente, con la classe andiamo a Gallipoli e oltre ad altri ne farò.